Ciao a tutti ragazzi, io sono Daniele, oggi mi quitta, bene dicevo, oggi siamo sul nostro caro PONNY SIMULATOR In questo caso ragazzi, noi dobbiamo simulare con un cuore, dobbiamo simulare BONNY e TOSPENZA Quindi tutto, cominciamo a BONNY, allora ragazzi, voglio lanciare una sfida, voglio vedere se riesco a riuscire alla guardia alle 12 Tutte le mie ragazze, vedete, c'è il mondo SPIMER, cioè il mondo, stiamo facendo il più subito nuove, ovvero il mondo del primo a zero Tutte le mie ragazze, io volevo solo per seguire, in questo video ci sta anche con un video, Io voglio aprire la solamente, che adesso sta vedendo un video, e anche con un video, facciamo un video, facciamo un video Allora, insomma, è... Allora, con Admon, non lo stavo proprio, ma ecco, la storia, ecco, la storia, ecco, la storia, ecco, la storia Noi cheat, facciamo degli hacker, degli hacker Ah, certo, adesso La camera non c'è, quindi Ah, non c'è volto Ah, 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 ah Sommo proprio delle... Cattive, ragazzi Proprio, cattive, cioè non vogliamo bene la cassa Ma... Ehi, c'è una f***a assurda 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 Allora, vediamo, dobbiamo stare su FNAF 3 Ok Cos'è la map di FNAF 1? Ehi, aspetta, ma cos'è la f***a? Ragazzi, vediamo bene Se l'ho letto, è noto necessario Non c'è una f***a Non c'è una f***a Non c'è una f***a assurda 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 Oddio, non c'è una f***a assurda Non c'è una f***a assurda Ah Questo gioco è arte Cioè, ragazzi, sapete Un trap è anche il mio preferito Scusate, però devo vedere anche Il video per questo Gio Ah, ragazzi, stavo vedendo se c'è qualcuno in piedi Mi stavo per chiudere la porta Perché c'è, avete visto, mi stavo per chiudere la porta Schifoso, eh A me non importa, facciamo con il nostro carissimo Springtrap Siamo dalla camera sconosciuta Siamo dalla camera sconosciuta Siamo dalla camera sconosciuta La mia ciotterina Ti fa anche il sederino Dove sei? Eh, dai Oh, brutta guardia, brutto lei Guardia Dove ti sei cacciato? Guardia, vedete Che brava, la guardia ci è per la porta e ci è mazza perché noi siamo le persone cattive noi siamo solamente da A ovvero allora proviamo con Bonnit 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 Questa c'è così tanto di art mi direi che appena arrivi ecco, art del mondo, eccola non so, lurido, schifo non sai con chi stai parlando tu lo sai che stai parlando con il famoso Dio ragazzi, non attacchiamo solamente quando ha la telecamera quanto stiamo con il video? 6 minuti? ok ragazzi dai fuori, dai fuori attacca attacca ok ragazzi, l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta l'abbiamo ucciso, non ce l'abbiamo ok, abbiamo vinto ragazzi per questo gioco finisce qua andiamo sinceramente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto commentate ci vediamo alla prossima anche se Gabriele non ha parlato ci sentiamo al prossimo ecco lo sapevo stifosa ci vediamo al prossimo ci vediamo al prossimo video ragazzi ci sarà sempre Gabriele ciao ciao